Dischia Marine Club a Roma nella piscina del Foro Italico superando il Villa York ai rigori per 13 a 12 ha vinto la semifinale dei playoff di serie B e dunque è giunta in finale dove tra qualche giorno si giocherà l'accesso in A2. Abbiamo in diretta proprio dalla piscina del Foro Italico il nostro Vincenzo Agnese e Diego Scarpitti che hanno seguito per noi questa entusiasmante partita che sembrava veramente infinita, ricca di emozioni, soprattutto con la gioia finale della vittoria dell'Ischia. Buonasera a tutti, siamo al Foro Italico nella splendida piscina dei Mosaici per raccontarvi dell'impresa, perché proprio così dobbiamo definirla, dell'Ischia Marine Club che accede alla finale playoff al termine di una gara esaltante, viva, vibrante, emozionante, 8 a 8 nei 32 minuti canonici e poi la lotteria dei rigori 13 a 12 in favore dei ragazzi di Paolo Iacovelli. Allora mister, davvero un'impresa senza precedenti, tanta sofferenza ma alla fine tanta gioia. Sì è stata un'esperienza bellissima anche se avrete visto che ci è costato tantissimo perché veramente c'è stato uno stress incredibile, però penso che nell'arco delle due partite abbiamo meritato, quindi faccio i complimenti veramente ai ragazzi, è un gruppo eccezionale, nonostante eravamo debilitati, c'era Vitullo squalificato, Anello ha preso tre falli, abbiamo avuto degli infortuni nel senso che in attacco abbiamo sbagliato un pochettino troppo, poi loro qua in casa sono dei leoni, l'hanno messo sotto l'aspetto della rissa, però noi non abbiamo mai mollato del tutto mentalmente e poi i rigori ci hanno premiato, penso che questo sia risultato giusto. Testa e cuore, tanto impegno, tanta lucidità, un grande Simonetti autore di 5 reti, il rigore decisivo lo mette Michele Gargiulo, complimenti anche a Pasquale Turiello, davvero complimenti al club presieduto da Francesco Di Iorio e ora la finale contro la Rorinantes Frosinone. Sì, adesso vogliamoci questo giorno perché è stata veramente una giornata dura, comunque abbiamo fatto tre ore di Pullman con un caldo incredibile, siamo arrivati qua, alla fine abbiamo vinto i rigori, siamo contentissimi, anche se non abbiamo fatto ancora niente, adesso viene il bello, ci giochiamo questa promozione in A2 col Frosinone, ricarichiamo le batterie e ripartiamo e cerchiamo di preparare al meglio la partita. E allora davvero complimenti di cuore all'Ischia Marine Club, dal Foro Italico è davvero tutto, restituisco la linea in redazione.